Amici di Nettocazzurra, buongiorno, buon sabato ed ovviamente buon weekend, anche se non sarà certamente un buon weekend dal punto di vista meteorologico. Dunque, dunque, la pausa soleggiata e piuttosto mite come previsto di ieri, la giornata si apre in maniera notevolmente diversa da come si era conclusa ieri sera. Una depressione mediterranea sposta correnti sud-occidentali, di matrice africana, verso le nostre zone, apportando una fase di maltempo, quindi un'instabilità perturbata, per buona parte di questo weekend. Non pioverà in tutte le ore, ma sicuramente il tempo sarà inaffidabile, quindi con l'ombrello aperto, in più di ogni circostanza. Dunque, in situazione piovosa, come vi ho detto, che si alternerà durante l'arco di tutta la giornata e probabilmente anche di domani, salvo qualche pausa asciutta nel pomeriggio di domani appunto, ma situazione perturbata che farà da apripista ad un cambiamento del tempo, come per annunciato. Quindi, inizieremo un percorso che ci porterà verso una settimana di stampo prettamente invernale. Per ciò che concerne quindi la giornata, sarà orientata a correnti, diciamo, in quota da sud, mentre, diciamo, a terra avremo una discreta bora, che farà salire anche il livello di marea, perché avremo due punte di marea quest'oggi, una verso mezzogiorno, scusate, verso gli undici, di 105-110, e un 110 previsti per questa notte verso gli undici e mezza-mezzanotte. Punte di marea che si porteranno, naturalmente, anche nei prossimi giorni, perché ovviamente è sollecitata da un adriatico in piena, in colmata, diciamo, di acqua, senza possibilità di scarico verso il Mediterraneo, e quindi con marea piuttosto, diciamo, sostenuta. Ma tornando a quello che è il cambiamento climatico, già prospettato ampiamente durante la settimana, le correnti domani si orienteranno, diciamo, a bora, quindi comincerà ad affluire nei bassi strati aria molto più fredda di matrice artico-continentale della Russia, naturalmente che porterà con sé ancora una perfetta instabilità e un abbassamento di temperature che raggiungeranno il loro apice tra martedì e mercoledì, con conseguenti anche brevi nevicati al piano, senza, naturalmente, molti accumuli. Un colpo di code invernale che vede, naturalmente, l'Europa, diciamo, centro-occidentale pienamente colpita. Noi saremo attraversati in maniera non così drastica da questa ondata di freddo, ma in maniera più temperata perché aggirerà le Alpi della porta, diciamo, del Tirreno ed entrerà sotto forma di depressione che verrà colmata, specie al sud Italia. Sicuramente da martedì e mercoledì avremo giornate più soleggiate, ma molto ventose, con clima rigido nelle prime ore della mattinata e poi con 5-6 gradi massimo durante il giorno. Un'estazione che poi ci proietterà, probabilmente, verso il prossimo weekend, dove i carti vedono ancora un maltempo piuttosto influente. Dunque, l'inverno non è ancora finito, ha ancora qualcosa da dire e lo vedremo appunto da domani sera in poi. Buona giornata comunque, buon weekend a chi può e buon lavoro a chi lavora. Ciao a tutti!